guardate che bella cucciola ecco voi sicuramente non ricordate di lei perché vi ho parlato di questi cuccioli quando vi ho presentato grace mamma beagle e i suoi cuccioli erano solo nella carrellata del canile di sanitario di la terza quando ho fatto vedere la situazione tra i box pieni strapieni di cuccioli dopodiché non avete più saputo nulla di loro ecco lei è la dolce timidissimissima bertha figlia di mamma grace che invece si è rivelata un amore di cagnolina i suoi figli purtroppo sono tanto impauriti tantissimo e sarà difficile renderli dei cani sereni in tutti i contesti perché purtroppo quando vivevano nel camping dove sono stati abbandonati la mamma che fuggiva non si fidava ancora delle persone ha trasmesso loro questa paura quindi loro sono cani molto molto fragili ci vogliono super persone per questi cani la bella notizia è che una femminuccia anne è stata adottata proprio da persone così persone non solo di cuore ma anche consapevoli che hanno già aiutato un cane di questo tipo con questo carattere e non hanno avuto paura di aiutare la piccola anne io l'ho portata a casa è stata anche a casa mia tutta ranicchiata si nascondeva non interagiva con nessuno la cosa importante è che loro siano docili bertha questa piccina è docilissima è un amore guardate com'è lei è color crema con delle macchie arancio alle orecchie e anche sul dorso appena appena delle sfumature ecco guardate quanta paura questa cucciola allora la sua taglia è la media quattro mesi e mezzo e alla corporatura del beagle guardate come si mette che peccato questa piccina peccato che non si fa vedere bene lei come un beagle come la mamma solo che magari non so un po più della mamma cresceranno non sappiamo la mamma appena 13 kg era mamma grace mamma grace è un amore secondo me la dolcezza l'hanno ereditata da lei è soltanto l'esperienza di vita che hanno avuto che li porta a essere così c'è qualcuno che se la sente di salvare questa piccola di non farla crescere in un recinto dove non si lascia nemmeno prendere perché noi per prenderla abbiamo dovuto incastrarla ma poi una volta chiusa nell'angolo tranquillamente le si mettono le mani addosso la si solleva non sa nemmeno cosa sia l'aggressività lei si frizza si paralizza avrà tanto bisogno di essere rassicurata però nemmeno compiatita cioè lei non dovete avere pietà di lei voi dovete darle coraggio questo è importante ecco povero amore come ti sei messa vediamo spostiamola facciamo vedere quanto quanto è buona nel farsi prendere ecco guardate vedete lei così noi la prendiamo la muoviamo ecco qua amore piccolina guardate la coda pannolino povera piccola tanto dolce fate un pensiero per lei questi sono cani che hanno veramente bisogno queste sono adozioni veramente del cuore ciao berta ciao piccole ciao ciao ciao